Sì ragazzi! Sì ragazzi! Vai già! ... ... ... ... ... ... chi passerà? chi passerà? chi passerà? andiamo via andiamo a dire si chiara chi ha messo? forte, forte Fai, fai, fai 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 Fai Fai, fai Fai, fai Fai, fai Fai, fai Fai, fai Fai Fai, 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 fai Fai Fai, 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 fai, fai Fai, fai Fai, fai Fai, fai, fai Fai, fai, fai Fai, fai Fai, fai, fai Fai, fai, fai 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 Cazzo fischia lì però eh! La 11 Giarri! 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 La 11 Giarri!